Ehi ragazzi, come va? Io sono Fioriniki E io sono Steph, e che se oggi giocheremo The Aftermath? E' un altro giochino carinissimo che abbiamo trovato E in pratica, in questo gioco, noi saremo a capo del purgatorio E dovremo decidere chi andrà in paradiso e chi andrà all'inferno, è fantastico So già che è la cosa che preferiresti fare nella vita E il lavoro è perfetto per te, secondo me Sì, anche secondo me Vero? Se mi andrà male qualcosa nella vita, posso lavorare, capito, al purgatorio Vedi? Hai ragione Dice, le persone devono andare nell'inferno, cioè nel paradiso o nell'inferno Tu sei l'unico giudice Grazie, grazie Posso farlo da sola senza di te, giusto, per saperne una Così decido tutto io No Io e il signor maialino No Lo sai che siamo le persone più adatte per decidere queste cose Allora, perfetto, vedete, noi abbiamo i timbri proprio Un po' come Peter Blitz, capito, quando devi decidere chi entrava nella Esatto Nella città, oppure no, con i timbri, è fantastico Pronta? Vai Allora, questo lo dobbiamo mettere così e poi si zooma Allora, si chiama Penny Gilmore Ok, viene dall'Afghanistan, è una femmina e ha 25 anni Le sue passioni sono cucinare e giocare a basket E le sue informazioni di vita sono Robbed a Bank Always kills bugs Ha zero figli e zero figlie Esatto Allora, quindi Robbed a Bank penso che si è inteso che abbia rubato in una banca Sì, è che ammazzano sempre gli insetti, però vabbè, quello, dai, ci fanno schifo e ne ammazzi uno È una bruttissima, però non mi piace questa cosa della banca, secondo me è inferno Su, dai, ma, cioè, è brutto l'inferno, eh Appunto, ma, cioè, non si rubano i sulli degli altri, scusami Dovresti pensare, se tu dovessi essere giudicata e ti dico Ma me lo meriteresse o rapinato una banca, scusami Sicura? Sì Ce l'avrei per sempre sulla coscienza, eh Non mi interessa tanto, non... Vado? Non mi dispiace per queste cose Ciao, mi dispiace, mi dispiace Ok, dove aveva messo? Ah, guarda, perfetto Ah, viene il cassetto Bellissimo È fantastico Numero 2 Franklin Belville Viene dalla Grenada Non so dove sia Questo sai ovviamente dov'è No, assolutamente no Maschio, 46 anni, passione di nuovo cucina Allora, è rimasto single per tutta la vita Ok Ha fatto uso di droghe Credo, sì Eh, non si fa questo, non si fa È un procrastinatore professionale Non ci credo Però ha anche impiegato Ha aiutato per 4 anni 4 anni della sua vita per aiutare i bambini in Africa Allora, ma non è che poi ai bambini in Africa gli ha dato le droghe Perché io, cioè, cosa ti viene in mente, scusami? Allora, allora È un drogato Perché dicemolo che è tanto Magari ha smesso E se non ha smesso? Ok Allora, secondo me, guarda La sua vita è andata così Prova a dare un'ipotesi Ok, sentiamo Che è stato single Sinceramente non ci importa Ok Non ha trovato il vero amore Non può giudicare una persona per quello Anzi, poverino, poverino Magari ha iniziato con le droghe Poi vedi, era un procrastinatore professionale Quindi vuol dire che rimandava tutte le cose che doveva fare Magari poi se ne è pentito E ha deciso di passare gli ultimi anni della sua vita Ad aiutare i bambini in Africa E siccome noi perdoniamo le persone Se ne va in paradiso Ok Sei d'accordo? No, perché comunque si è pentito di ciò che ha fatto E comunque le droghe alla fine le ha usate su se stesso Senza fare del male ad altre persone Perlomeno non lo specifica E quindi non l'ha fatto Se se ne è pentito e ha deciso di redimersi Usiamo proprio le parole professionali Quali capo del purgatorio che siamo Va bene, va bene perdonarlo Vai, altro caso Ok, allora È divertitissimo sto gioco Io mi diverto troppo con queste cose Non so che dire Jasmine No, Jasmine Jasmine Jasmine, Jasmine, credo Di Sintio Di Sintio Non so come si dice Dalla Nigeria Femmina 67 anni Passioni Il football E gli scacchi Allora Non è andata al funerale della madre È bruttino questo Allora Non è andata al funerale della madre E si è comprata una villa Ha costruito La mansione Ah ok Ha costruito una gigante mansione In cima a una collina Esatto Sinceramente Beh non è chissà cosa Sembra una persona un po' egoista però Io ti dico Cioè Non è andata al funerale della madre Però magari perché soffriva troppo Non ha avuto il coraggio di andarci Può capitare Perché devi cercare il buono delle persone Secondo me è un egoista Perché l'inferno è per sempre Quindi se glielo dai Devi essere sicura Anche il paradiso è per sempre Se sono brutte persone rovinano il paradiso No perché sono in mezzo a persone bellissime E rovinano il paradiso No 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 Secondo me Inferno Non è una persona così cattiva Inferno Inferno Cioè scusami Passi tutta la tua vita Ignorare i tuoi familiari E pensi solo a costruirti una gigante villa Ma su Vabbè decidi tu Sai perché decidi tu Perché al prossimo caso deciderò io Quindi A priori No Quando ci saranno queste situazioni Di chi ci ritoccherà a me Accetto E mi devi un favore Facciamo così Accetto Vedi Io dovrei finire lì Esatto Mi stai ricattando Esatto Siamo ricatti subito Allora Ne abbiamo fatto tre Questo qua Vedi Kosovo Kosovo Ko Maschio 92 anni Finalmente qualcuno che ha vissuto abbastanza Poverini Passione ginnastica Allora Ha perso i suoi Gli anelli No, il suo anello Il suo anello, scusami Il matrimonio dopo solo due giorni E poi ha assunto droghe Ma tu sei drogata Eh, oh, vabbè, capita Soprattutto un 92enne in quel periodo era più normale Ma non si fanno queste cose Non le puoi giustificare No, no, no Su, su, su Non le puoi fare Vedi, sei una persona terribile Ma che cosa parli Ma io terribile? Sì, sei tu terribile Dovresti finire tu all'inferno Non puoi perdonare nessuno No, non puoi perdonare uno che prende le droghe Non si fanno queste cose Scusami, io lo prendo molto su personale Perché queste persone, queste anime Le avrei sulla coscienza Vado avanti, vado avanti David Larsen Grecia, maschio 78 anni Ok Passioni, fotografie, baseball Life info Allora Uh, qua c'è roba strana Bisogna leggere un sacco di cose Ha passato l'intera vita A mantenere il figlio Penso malato Non so adesso benissimo Come sia la traduzione Ma penso intenda questo Non è potuto andare a scuola da giovane Ok Non ha mai ceduto il posto Agli anziani nell'autobus Ok E non è andato al funerale della madre Anche lui, anche lui Allora ci sono cose buone Cose cattive Allora Al funerale della madre Non c'è potuto andare Perché stava badando Al povero figlio malato Anche secondo me E fin qua Non si può fare una colpa Per quanto riguarda invece Il dare il posto alle vecchiette Io lo faccio sempre Io lo faccio sempre Anche io Anche io Però ha comunque 78 anni Quindi non è che fosse Arzillo Capito? Eh ma devi vedere Se lo faceva da giovane O da vecchio Vabbè Comunque dai Poverino Non puoi andare all'inferno Ha badato tutto il tempo Al figlioletto Quindi direi che si possa perdonare Ok Jacqueline Von Vogt Questi nomi strani Guiana Femmina 69 anni Scacchi E collezionare Figurine Di anime No non è figurine Penso che siano Ah gli anime figuri Sì Ok Non mi viene il nome Le action figures Ok Le statuette Bravo Infatti sono action Però non anime Quindi hanno sbagliato loro Non io Allora Allora No vabbè Questo è geniale Non so quale sia più geniale Delle due Ho detto la prima E ho detto ok vado Leggo la seconda E inizio a ridere Allora Sì Io ho detto che mi stava simpatica Per Per le cose degli anime Però praticamente lei usa No filter L'hashtag Ok Anche quando I filtri nelle foto Sono stati usati È birbantella allora C'è presente l'hashtag Di Instagram No filter E poi sono pieni di filtri Sì è molto Molto birbantella Ok E poi fa le puzzette nella macchina E vabbè ma quelle Per scaldare la macchina Ci sta Inferno Soprattutto per il no filter Quando i filtri ci sono Questo è stato geniale Lo ammetto Bellissimo Mi ha preso alla sprovvista Perché tutte le altre Erano molto serie Molto serie Molto proprio da prendere In considerazione Seriamente Questa mi ha ucciso Ok Allora Anna Chun Gana Femmina Gana non so che Scusami 68 anni Passione vedi tennis Bello E anche l'anime Quindi ha passionissimi Dalle nostre Questa è una persona Che ci piace Secondo me È una persona Tranquilla Dai non ha nulla Di esagerato Non si merita L'inferno Non se lo merita proprio Però allora Questa è succeduta Una cosa brutta Stiamo mandando troppe persone In paradiso E lo so ma Non ci capitano Persone cattive E no allora Sei tu troppo gentile Scusami caro mio Scusami Vediamo che Adesso la troviamo Guarda A Kane A Kane Peters Malesia Giusto? Malesia sì Femmina Oh pensavo fosse un maschio 39 anni 39 anni Arciere e viaggiatrice Bello l'arciere Lo vorrei essere io Un'arciere Viaggia e infreccia le persone Però di nuovo Derubato una banga Ha perso l'anello L'anello Dopo solo due giorni E ha fatto uso di droghe E praticamente regolarmente Lascia il frigo vuoto Perché si mangia tutti gli snack Di mezzanotte Guarda Questo inferno Potevo perdonare tutto Ma se io vado Nel frigo Lo trovo vuoto Senza più cose da mangiare Se tu me lo lasciassi vuoto Dei mie snack preferiti Io davvero potrei commettere Un omicidio Via Via Nesso di te sicuramente Nessun dubbio questa volta Allora Trevor Goda Della Giamaica Maschio 88 anni La sua passione è parlare Sono d'accordo No stalking Quindi penso Ah scusa Invitare le persone Non ho visto l'essere Tu sono stalking Mamma mia Allora Anche lui Droghe Ha vinto la lotteria nazionale Due volte E fa le putzette Della macchina Ascolta Ascolta Cioè Va via Ciao Puoi anche fare le putzette Della macchina Poi c'è scusa Sale qualcuno Non è molto bello Scusami Eric Galbright Della Nicaragua Maschio 63 anni Le sue passioni sono Lo shopping E la scalata E la rampicata Allora È molto rispettoso Ok Sempre procrastinatore Eh no Ha avuto a che fare No No Signor Maialino Dice inferno Non si fanno ste cose È troppo anche per Signor Maialino Questo No 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 Abbiamo C'è C'è comparso il tasto chiudi Posso cliccarlo per curiosità Perché Perché non so se magari ci dice Ci fa un resoconto Just one last shit Fanno un altro Fanno un altro Ok Allora Uh Guarda Questa cosa Nome Interno Interno 77 Ah siamo noi Vedi Ha mandato Quattro persone all'inferno E sei al paradiso Aiuto Però non abbiamo 32 anni Perché ci ha detto 32 anni Ha sparato Secondo me Così ha dato un'età Casaccio E poi femmina Passione Videogiochi Mi sento osservata Ti stanno osservando Abbiamo mandato Quattro persone all'inferno E sei al paradiso Ma siamo una vergogna E noi ci andiamo a paradiso E noi ci mandiamo in paradiso Perché siamo stati bravissimi E sei chiuso Ok ragazzi Non so come dirlo Ma facendo quella cosa Finisce il gioco Se noi proviamo a riaprire il gioco Per farne un altro po' Ci dice Sei andato in paradiso E si chiude il gioco Vi giuro Ho cancellato la cartella L'ho rinstallato L'ho rimesso E continuo a fare così Cioè è inquietante Questo gioco Allora io non so se adesso Sia un bug Non credo O se sia una cosa estremamente inquietante Ma io sto iniziando ad avere paura Ti dico la verità Ok Perché questa cosa Che poi ci ha fatto scegliere Se mandare a noi stessi In paradiso E l'inferno Abbiamo scelto il paradiso E non ci fa più giocare In nessun modo Neanche cancellando il gioco E riscaricandolo È davvero inquietante Ti dico la verità Lo so Perché stiamo giocando Sti giochini Non doveva essere un gioco Che mi faceva paura E mi lasciava inquietudine Non va bene Scusami Io ero così felice Così impari a giudicare la vita altrui Te la sei meritata Non lo farò mai più Scusatemi Non lo farò mai più In ogni caso ragazzi Ci premiamo così È stato davvero carino come gioco Ci piacciono che si giochi Dove si può chiacchierare con calma Giudicare la vita altrui È sempre bello Soprattutto giudicare la vita altrui Vero Sarebbe il tuo lavoro di professione Se esistesse come lavoro Lo faresti senza ombra di dubbio Sarei l'impiegata numero uno Che non può essere sostituita da nessuno Assolutamente Comunque fateci sapere nei commenti Se vi è piaciuto questo gioco Vi diremmo Fateci sapere se avete un altro episodio Ma non potremmo farlo Non ho idea se riusciremo a risolvere Quindi non lo so E quindi niente Spero che ci vi riesci così Se iniziate lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.